in questo momento così sofferente per la nostra nazione e per tutte le nazioni del mondo. Desideriamo e vogliamo essere sostegno per la nostra amata Chiesa, perché i Suoi figli possano essere testimoni e apostoli dell'amore di Dio sotto la vida di Maria affinché Gesù possa operare i Suoi miracoli. Lui è risorto, è vivo e noi confidiamo nella Sua infinità misericordia. Lui è risorto, è vivo e noi confidiamo nella Sua infinità misericordia. Lui è risorto, è vivo e noi confidiamo nella Sua infinità misericordia. Lui è risorto, è vivo e noi confidiamo nella Sua infinità misericordia. Lui è risorto, è vivo e noi confidiamo nella Sua infinità misericordia. Tutti coloro che vivono nella pavola, nella pavola, nella pavola, vivono nel terrore, nel coronavirus. Che il sangue del Divino Agnello si estenda su di noi e sull'umanità, sulla Chiesa, perché attraverso la nostra figliera possa la misericordia operare. e in onore attraverso di noi, su tutto il popolo italiano e coloro che ne abitano. Sui medici, sugli infermieri, resistenti, sui malati, sofferenti, sui nostri governanti, sul Santo Padre e Papa, su tutta la Chiesa. noi, braccia, inutili ma presenti, vogliamo dare quello che abbiamo ricevuto gratuitamente. Uniti in un cuor solo, un'anima sola, emettiamo la nostra figlia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane ipodiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimedichiamo ai nostri debitori, e non ci indure in tentazione, ma liberaci dal male. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, e di là verrà giudicare i vivi e morti, credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, noi ti offriamo il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, noi ti offriamo il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, noi ti offriamo il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, noi ti offriamo il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, noi ti offriamo il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. San Dio, santo forte, 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 s Grazie a tutti 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 La mia misericordia agisce in tutti i cuori che le aprono la porta Grazie a tutti 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 Gesù 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 Cristo Gesù Gesù Amen Gesù Grazie a tutti Grazie a tutti Gesù Tu 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 Gesù Tu 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 Grazie a tutti Sangue e Grazie a tutti Grazie a tutti Gesù Grazie a tutti Grazie a tutti Gesù 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 Gesù